mi dicono ci siano i folletti in questi boschi, andiamo a vedere il nostro corso gratuito www.mesmerism.info il nostro corso gratuito il nostro corso gratuito la mia padrona si è innamorata di un mostro presso al segreto recesso a lei consacrato mentre giaceva assopita in un languido riposo un branco di buffoni di rozzi artigiani che si guadagnano il pane nelle botteghe di Atene si era riunito per fare le prove di un recito da presentare il giorno delle nozze del grande tesero il più sciocco fra gli zotici di quella finodrammatica che nella recita faceva la parte di piramo si ne esce di scena ed entra in una fratta non mi sono lasciato scappare l'occasione e gli ha fissato sul collo un bel testone d'asino ecco in risposta alla sua tisbe il mimo torna in scena quando gli altri lo vedo come occhi selvatiche che si accorgono del cacciatore furtivo o come uno stormo di cornacchi dal capo rossiccio si rileva in volo gracchiando allo sparo di un fucile disperdendosi poi in foglie evoluzioni nel cielo così alla sua vista i suoi compagni ce la danno a gambe io batto il piede ed ecco che uno ruzzola grida ma ammazzano e chiede aiuto ad Atene lo spavento gli fa perdere anche l'ultimo barlume di intelligenza tanto che si sentono aggrediti da cose inanimate rovi e spider li si aggrappano alle brache e quelli si lasciano strappare maniche e berretti li ho menati in giro così terrorizzati piantando in asso il dolce piramo trasformato vedi combinazione proprio allora Titania si sveglia e di un somaro si innamora grazie a tutti Grazie per la visione!